Videoconferenze dagli stand è data spostata a luglio da sabato 18 a martedì 21 2020. Così Oro Arezzo, al tempo del coronavirus, il più grande appuntamento fieristico del settore dell'orificeria che doveva svolgersi in primavera all'Arezzo Fiere Congressi. Il management di Italian Exhibition Group è al lavoro per garantire i più alti standard di sicurezza dei propri clienti, visitatori, partner e naturalmente dipendenti. Lo scenario sarà ovviamente quello del quartiere fieristico aretino ma con i dovuti accorgimenti che saranno via via adeguati alla situazione sanitaria italiana. L'obiettivo è quello comunque di dare una pronta risposta alle aziende del comparto ferme da settimane a causa dell'emergenza sanitaria. I venditori saranno organizzati nei classici stand fieristici con le dovute accortezze igienico-sanitarie. I buyer potranno essere presenti solo se le condizioni sanitarie locali e internazionali lo consentiranno. Saranno possibili invece delle videoconferenze in ogni stand grazie alla piattaforma Business Meeting da oltre dieci anni utilizzata da IEG che permette l'incontro a distanza di espositori e buyer. Per questo strumento sono in fase di finalizzazione importanti integrazioni sviluppate appositamente per la Fiera Ora Faretina 2020 che ad esempio permetteranno gli incontri con i buyers in videoconferenza su ogni singolo stand. I buyer saranno così messi nelle condizioni ottimali per rispettare le agende dei meeting già confermati.